Lui avrebbe fatto così, con le mani avrebbe spezzato il gheriglio, e noi lì a raccogliere frammenti di grida, e poi la sera alla fermata l'aria guasta, una multifilter spenta tra le dita, rumoreggiare i ragazzi, eppure noi contemplavamo quell'andare lento, ancorato alla strada, una roccia cosciente, smagrita, il peso specifico delle cose, aspettarti sotto foglie smilze, l'atmosfera dipinta per l'occasione, troppo profumati i rametti di lauro. Perché, mi chiedo, non ci sei nel mio lungo inverno, ma il tempo è un bracere non sueto.